Nuovo appuntamento con Spazio Notizia, ben ritrovati. Parliamo di cronaca partendo dal Palermitano, per la precisione da Castelbuono, dove i carabinieri hanno tratto in arresto due persone per spaccio di sostanze stupefacenti. Vediamo il servizio. I carabinieri della stazione di Castelbuono hanno tratto in arresto in due diverse occasioni un 49enne e un 29enne del luogo, entrambi accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 49enne è stato fermato nel corso di un controllo alla circolazione stradale. I militari dell'arma, ai quali l'uomo era già noto, insospettiti dal suo atteggiamento nervoso, hanno perquisito l'autovettura, rinvenendovi oltre 30 grammi di cocaina e quasi 20 grammi fra crack e marijuana. La perquisizione è stata poi estesa all'abitazione, dove è stato sequestrato un bilancino di precisione. Il 29enne, invece, già sottoposto agli arresti domiciliari nel corso di un ordinario controllo, è stato trovato in possesso di oltre 100 grammi tra crack e hashish, nonché di un bilancino di precisione di un libro mastro nel quale erano annotate cessioni ed incassi dell'attività di spaccio e di circa 4.700 euro in banconote di vario taglio, sequestrati come verosimile provento. Gli arresti sono stati convalidati dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Merese, che ha disposto l'applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per il 49enne, mentre al 29enne, atteso il perdurare della condotta illecita durante una misura restrittiva, è stata applicata la custodia cautelare in carcere. Sulla sostanza stupefacente sequestrata saranno eseguite le rituali analisi qualitative e quantitative a cura del competente laboratorio del Comando Provinciale. Restiamo in tema, parliamo ancora di spaccio di stupefacenti, ci spostiamo però a Catania, dove gli agenti della Polizia di Stato hanno tratto in arresto un pusher nel quartiere San Giovanni Galermo. Tutti i dettagli del servizio. Gli agenti delle volanti in servizio di controllo nel quartiere di San Giovanni Galermo a Catania, transitando per via Capopassero, hanno notato da lontano l'atteggiamento sospetto di un uomo, il quale, guardingo, si avvicinava ad alcune macchine. Pertanto i poliziotti hanno deciso di procedere al controllo del soggetto, che alla vista della volante, con una mossa repentina, ha tentato di disfarsi di un marsupio. L'uomo è stato subito bloccato, il marsupio ovviamente recuperato. Da un primo controllo effettuato all'interno, sono stati rinvenuti diversi involucri di sostanza stupefacente di vario tipo, marijuana, cocaina e crack, e un bilancino elettronico di precisione. Dal momento che l'uomo era stato notato entrare e uscire dall'androne di uno stabile, nelle immediate vicinanze, gli agenti hanno proceduto a ispezionare tale luogo, rinvenendo una busta di plastica con numerosissimi altri involucri, contenenti la medesima tipologia di droga che si trovava all'interno del marsupio e altri due bilancini di precisione. Il pusher, che si è assunto la paternità di tutto quanto rinvenuto e opportunamente sequestrato, è stato tratto in arresto per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di una perquisizione effettuata presso il domicilio dell'arrestato, sono state poi rinvenute diverse bustine in cellofan, le stesse utilizzate per confezionare le diverse dosi di stupefacente. Per lo spacciatore è stata quindi disposta la misura degli arresti domiciliari in attesa della convalida dinnanzi al GIP. Restiamo a Catania per parlare però di botti illegali con la polizia che ha denunciato un venditore ambulante. Vediamo il servizio. Il personale delle volanti è intervenuto in via Citelli a seguito della segnalazione giunta presso la sala operativa circa la presenza di un venditore ambulante di artifici pirotecnici. Giunti sul posto, gli agenti hanno rinvenuto 109 articoli di categoria F2, 51 articoli di categoria F1 e 50 di categoria P1. L'uomo è stato identificato e risultava essere privo di qualunque autorizzazione alla vendita di tale tipologia di merce. Tutti gli artifici pirotecnici sono stati sottoposti a sequestro e successivamente distrutti dal personale specializzato del nucleo artificieri. Il venditore invece è stato deferito in stato di libertà per il reato di fabbricazione o commercio di materiale abusivo esplodente. Nella stessa giornata, il personale delle volanti è rinvenuto e sequestrato degli articoli pirotecnici per un peso complessivo di contenuto esplosivo pari a 582 grammi, posti su dei banchetti abbandonati in piazza Risorgimento e in viale Grimaldi. Anche in questo caso tutto il materiale rinvenuto è stato distrutto. Botti illegali anche a Palermo. In questo caso la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 4 tonnellate di articoli pirotecnici. Nei giorni scorsi i finanzieri del Comando Provinciale di Palermo nell'ambito dei servizi di controllo economico del territorio volti alla repressione e al contrasto dei traffici illeciti in occasione delle festività di fine anno, hanno sequestrato in diversi interventi operati su tutto il territorio provinciale oltre un milione e mezzo di artifici pirotecnici del peso complessivo di oltre 4 tonnellate. In particolare l'attività delle fiamme gialle è stata orientata da un lato al riscontro dei requisiti di sicurezza e delle autorizzazioni alla detenzione e commercializzazione dei citati articoli, dall'altro all'individuazione delle fonti di approvvigionamento tramite controllo ai corrieri postali e presso i depositi di smistamento. Nel primo caso i militari del secondo nucleo operativo metropolitano di Palermo hanno eseguito diversi accessi in punti vendita Omega Store dove hanno sottoposto a sequestro innumerevoli articoli detenuti in assenza di regolare autorizzazione rilasciata dal prefetto. Inoltre i militari hanno accertato che congiuntamente al materiale esplodente erano presenti negli stessi spazi di vendita o di stoccaggio articoli altamente infiammabili. Sono stati pertanto segnalati alla locale procura della Repubblica cinque soggetti extracomunitari per commercio illegale di materiale esplodente, ricettazione e anche per violazioni alla normativa antincendio e alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro mentre la merce illegalmente detenuta o posta in vendita è stata sottoposta a sequestro penale. Per analoga condotta ulteriori quattro soggetti sono stati denunciati dai baschi verdi del gruppo pronto impiego nel corso di controlli posti in essere in centri di spedizione presenti in città durante i quali militari con l'ausilio di personale delle società di spedizione hanno individuato e sequestrato oltre 220 batterie di artifici pirotecnici per un peso complessivo di oltre 880 kg. Infine sono stati eseguiti analoghi controlli dai finanzieri della compagnia di bagheria in depositi di corrieri postali presenti in provincia che hanno consentito di riscontrare la presenza di spedizioni prive di indicazioni sull'origine, la destinazione e la natura del contenuto all'interno delle quali è stato accertato la presenza di 1.356 artifici pirotecnici per un peso complessivo di circa 950 kg. Nei confronti dei presunti destinatari nove soggetti allo stato tuttora ignoti sono in corso indagini per risalire alla loro identità. Cambiamo argomento e ci spostiamo a Vittoria nel Ragusano dove le forze dell'ordine hanno invece arrestato un ladro che aveva commesso un furto all'interno di un negozio di parrucchiere. Il servizio. Il comando provinciale dei carabinieri di Ragusa prosegue nelle attività di contrasto ai reati contro il patrimonio soprattutto nelle festività natalizie per garantire maggiore sicurezza ai cittadini. In particolare nella notte di Natale i militari della compagnia di Vittoria unitamente al personale del locale commissariato sono intervenuti a Vittoria a seguito di una richiesta pervenuta al 112 da parte del proprietario di un salone di parrucchiere il quale segnalava un furto in atto all'interno del suo negozio. Immediatamente i carabinieri e gli agenti di polizia sono giunti sul luogo cinturando l'edificio segnalato. Sul retro del salone hanno sorpreso in flagranza il ladro mentre stava scavalcando il muro perimetrale dello stabile con la refurtiva ancora addosso. Il malfattore dopo essersi accorto dell'intervento delle forze dell'ordine al fine di darsi a una disperata fuga si è lanciato dal muro che stava scavalcando incurante dell'importante altezza andando così a impattare al suolo e causandosi delle lesioni agli arti. Il ladro è stato prontamente bloccato e identificato nonché sottoposto ai controlli di polizia rimbenendo la refurtiva e le somme di denaro trafugate poco prima dal salone. Dagli approfondimenti investigativi è emerso che il ladro era già gravato dalla misura cautelare degli arresti domiciliari pertanto è stato accertato che aveva commesso il furto evadendo dalla propria abitazione forse nell'errata convinzione di poter approfittare del tradizionale raccoglimento familiare della notte di Natale per commettere il reato garantendosi l'impunità. La refurtiva e le somme di denaro rubate sono state riconsegnate al proprietario del salone mentre il malvivente espletate le formalità di rito e informata la procura della repubblica di Ragusa è stato arrestato per furto aggravato ed evasione dai domiciliari in attesa delle successive valutazioni dell'autorità giudiziaria. Ed ora Messina per parlare di una rapina all'interno di un distributore di carburanti anche in questo caso il malvivente finito in manette si tratta di un 44enne messinese. Nei giorni scorsi i poliziotti della squadra mobile e delle volanti hanno tratto in arresto un pregiudicato messinese di 44 anni per aver consumato una rapina armato di coltello presso un distributore di carburanti in zona annunziata. A dare l'allarme è stato il titolare della stazione di servizio il quale avvertito dal dipendente ferito a una mano durante la colluttazione con il rapinatore ha contattato le forze dell'ordine indicando la via di fuga. Gli agenti delle volanti hanno immediatamente raggiunto la zona e insieme agli investigatori della squadra mobile prontamente intervenuti si sono subito messi sulle tracce del malvivente visto entrare all'interno di uno stabile non distante dal luogo della rapina. A incastrare il rapinatore sono state alcune tracce di sangue presenti nei pressi del portone d'ingresso oltre che sul citofono di una delle abitazioni dello stabile. Dopo aver bussato insistentemente alla porta gli operatori hanno udito chiaramente dei rumori provenire dall'interno. pertanto insospettiti in merito alla possibile presenza del rapinatore all'interno dell'edificio gli agenti hanno forzato la porta dell'appartamento con l'ausilio dei vigili del fuoco nel frattempo giunti sul posto. Dopo circa 20 minuti dall'interno dell'abitazione i poliziotti hanno udito la voce di un uomo. Dopo aver aperto la porta l'autore della rapina anche egli ferito a una mano è stato arrestato. Su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato quindi trasferito presso la locale casa circondariale. All'interno di una tasca dei pantaloni il 44enne deteneva un coltello con manico in legno e lama ricurva in acciaio mentre nell'altra tasca 590 euro in banconote di vario taglio. Sul pavimento sotto il letto sono stati rinvenuti ulteriori 45 euro verosimilmente costituenti parte integrante del denaro sottratto alla vittima della rapina. Torniamo a parlare di spaccio di droga stavolta la notizia arriva da Messina dove i carabinieri hanno tratto in arresto un pusher. Vediamo il servizio. Nei giorni scorsi nell'ambito dei servizi antidroga disposti dal questore di Messina la squadra mobile ha tratto in arresto un messinese di 36 anni con pregiudizi di polizia. I controlli intensificati in occasione delle festività natalizie hanno riguardato diverse zone periferiche della città e in particolare il rione Carrubara dove sono stati predisposti discreti servizi di osservazione anche nei confronti di soggetti conosciuti dagli investigatori. Gli uomini della mobile con l'ausilio del cane antidroga Aidi del reparto cinofili della guardia di finanza hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso l'abitazione di residenza di un soggetto già noto negli ambienti dello spaccio. Il fiuto di Aidi e l'intuito degli investigatori è stato premiato dal rinvenimento di un chilo di marijuana ben occultato all'interno della camera da letto dell'indagato il quale è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. E' quasi tempo di saldi in Sicilia e allora vediamo nel servizio quando partiranno gli sconti nell'isola. Dal 2 gennaio è tempo di saldi invernali in Sicilia fino al 15 marzo del 2023. La regione Sicilia anticipa di qualche giorno la tabella di partenza dei saldi a livello nazionale dove gli sconti scatteranno invece dal 5 gennaio. L'avvio dei saldi del 2 gennaio farà bene al commercio e ai consumatori ha dichiarato l'assessore regionale alle attività produttive Edi Tamaio. La misura che abbiamo condiviso ha aggiunto in accordo con le associazioni che rappresentano i piccoli commercianti ha proprio lo scopo di dare l'infa vitale ai negozianti che potranno incassare liquidità fondamentale per la loro sopravvivenza e fornire occasioni di acquisto migliori per gli utenti. Dopo la pandemia si è tornati alla programmazione biennale dei saldi e delle vendite promozionali che oltre a essere prevista dalla legge è uno strumento fondamentale per consentire ai commercianti e ai consumatori di potersi organizzare anticipatamente. La programmazione fissata con decreto lo scorso aprile dall'assessorato regionale delle attività produttive prevede i saldi invernali appunto dal 2 gennaio al 15 marzo 2023 mentre quegli estivi dal primo luglio al 15 settembre. Nel calendario sono stati fissati anche i periodi per le vendite promozionali dal 16 marzo al 30 giugno e dal 16 settembre al 31 dicembre 2023. E' tutto ci fermiamo qui possiamo chiudere questa edizione di Spazio Notizia. Grazie a tutti.